Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video! Grandissimi! E benissimi avete letto il titolo, oggi insieme alla bellissima e fortissima Miriam andremo a fare un circuito che dura precisamente 10 minuti e che va a scolpire i vostri addominali va a colpirli da ogni angolo possibile per sviluppare una tartaruga d'acciaio Allora, abbiamo 5 diversi esercizi, abbiamo 2 round, ogni round sarà composto da 5 minuti esegueremo tutto con il metodo Tabata, quindi 20 secondi on, 10 secondi rest e altri 20 secondi on per ogni esercizio, appunto per colpire la vostra tartaruga da ogni angolo possibile Prima di iniziare però vi chiedo un piccolo favore, mi raccomando lasciate un bel commento bel like, un bel commento, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdervi nessun allenamento ora in Miriam Valtimì 5, tu sei pronto per iniziare Prontissimo ragazzi Partiamo 15 minuti prima di iniziare questo allenamento completo a corpo libero per sviluppare una tartaruga d'acciaio a questo circuito di 10 minuti prendo uno scoop 20 grammi con 400 ml d'acqua Energy Minus, gusto Ribes nero e 3 capsule di L-Carnitina per essere carico al massimo Vi ricordo amici che trovate tutti questi integratori di altissima qualità qua sotto, link in descrizione utilizzate il codice sconto DENFSG su prodotti singoli non su pacchetti convenienza, prendiamo il nostro pre-workout chiudiamo per bene il nostro shaker, shakeriamo, anche con questo ci giochiamo un po' tanto lo sapete molto bene, è impossibile che cada apriamolo da veri spartani e ricarichiamoci e poi i doni sono anche l'adernario allora partiamo precisamente tra 15 secondi primo esercizio abbiamo disarmonica con le mani in appoggio facciamo metodo tabata, quindi 20 secondi on e 10 secondi resti partiamo tra 5, 4, 3, 2, 1, via 1, 2, 3, 4, non correte, trovate il vostro ritmo eseguite correttamente l'esercizio, abbiamo altri 10 secondi 5, 4, 3, 2, 1, rest 10 secondi di recupero, addominali che si sono già attivati e mi sento il calciare 3, 2, 1, via altri 10 secondi 5, 4, 3, 2, 1, rest prossimo esercizio abbiamo forbici orizzontali quindi ci mettiamo in posizione 3, 2, 1, via ottimo esercizio per sviluppare orari meglio gli addominali a corpo libero noi che abbiamo altri 5 secondi 4, 3, 2, 1, rest 10 secondi di recupero gli addominali ti bruciano già? 5, 4, 3, 2, 1, rest 5, 4, 3, 2, 1, rest altri 10 secondi 5, 4, 3, 2, 1, rest adividiamo in fiamme prossimo esercizio abbiamo Russian twist in posizione 4, 3, 2, 1, let's go 5, 4, 3, 2, 1, rest 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 E abbiamo altri 10 secondi, 4, 3, 2, 1, rest, i criminali letteralmente distrutti, stanno 4, 3, 2, 1, let's go, dai noi andiamo, sviluppiamo questi azionari, mi raccomando, con tantissima ossigenazione, respirate altri 10 secondi, 5, 4, 3, 2, 1, rest, ah, che bruciare, prossimo esercizio per chiudere plank, quindi mettiamo attacchettino in avanti, 3, 2, 1, via, wow, fantastico, wow, oltre a distruggere gli addominali, stiamo bruciando anche un sacco di calorie, io, quindi perfetto, dai altri 5, 4, 3, 2, 1, rest, bello, e per chiudere questo primo round, rifacciamo di nuovo plank, 2, 1, via, lunare tutti i contratti, glutei i contratti mi raccomando, un altro 11 secondi, dai Miriam non da vendere, e poi ripetiamo questo round uno, ancora una volta, ok, perfetto, ci sono, ci sono, 3, 2, 1, rest, rimettiamo il tabbettino, nella stessa posizione, primo esercizio, andiamo fisarmonica, mani in appoggio, 2, 1, via, 5, 4, 3, 2, 1, rest, massacrante vicidiale, dai messaggi ci distrugge, domani gli addominali viaggeranno, 2, 1, via, altri 10 secondi, 5, 4, 3, 2, rest, buono, ci mettiamo posizioni, prossimo forbici, orizzontale, 3, 2, 1, via, 5, 4, 3, 2, 1, rest, wow, stanno piangendo queste tartarughe, 3, 2, 1, let's go, gambe tese, mi raccomando, altri 10 secondi, dai, 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 dai 5, 4, 3, 2, 1, rest, wow, wow, mettere la mente in fiamme, 5, 4, 3, 2, 1, let's go. 5, 4, 3, 2, 1, rest, bene, prossimo esercizio, abbiamo ancora bicicletta, 3, 2, 1, let's go. 5, 4, 3, 2, 1, rest, wow, allora, 3, 2, 1, rest, wow, allora, 3, 2, 1, rest, wow, 5, 4, 3, 2, 1, rest, wow, che mano, prossimo esercizio per finire, break, quindi tappatina in avanti, 3, 2, 1, rest, wow, anche il fuoco massacrante, micidiale, 5, 4, 3, 2, 1, rest, wow, vai milioni, l'ultimo esercizio, ancora play, ultima serie, 2, 1, via. givenzione e segnale, 1, via, 1, via, 1, via, 2, 1, rest, wow, vai milioni, restati. addome ve lo assicuro stava piangendo letteralmente in fiamme e abbiamo bruciato tra l'altro anche un sacco di calorie in ogni caso ringrazio la fortissima e bellissima mia per aver partecipato a questo allenamento ragazzuoli che dire se questo video vi è piaciuto ma soprattutto se vi è tornato utile mi raccomando lasciate un bel like, commento, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdervi nessun allenamento a corpo libero ovviamente lascio i social di Miriam qua sotto link in iscrizione noi ci vediamo per forza alla prossima video grandissima